Mettersi in proprio è il titolo del convegno dedicato all'imprenditoria femminile che si è svolto a Silvi. Occasione questa di approfondimento per i professionisti operanti nel settore giuridico-economico e di informazione e formazione sulle donne che intendono usufruire delle opportunità offerte dai bandi finanziari dal PNRR a fondo perduto e agevolato, che partirà nei prossimi giorni. L'evento è stato patrocinato dall'Ordine degli Avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro con lo scopo di assistere e seguire passo dopo passo la clientela. Principalmente si è parlato di come funziona il fondo che è stato istituito dal MISE per l'imprenditoria femminile. Si tratta di tanti milioni di euro e verranno a pioggia anche dopo. Presenti i fiammettarici, delegata alle pari opportunità dell'Università di Teramo, Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento di Presidenza della Regione Abruzzo, Filippo Lucci e Alessandro Perfetti, esperti in progettazione europea e la Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone. Sono soggetti fondamentali per quanto riguarda l'attuazione di questi fondi. Sono soggetti che dovrebbero insieme sviluppare quell'intervento previsto dal Fondo per l'imprenditoria femminile che riguarda l'attività di formazione, di informazione e di diffusione della cultura imprenditoriale femminile. Ma ci sono anche tante imprenditrici che non riescono proprio ad avere il gancio per cercare anche di compilare un semplice modulo. Esatto. Hai fatto una bella domanda perché proprio la location del convegno è stata individuata in quanto, parlando con la proprietaria, mi diceva che aveva difficoltà nell'accesso delle informazioni. Molto spesso, anche se si ha un commercialista, un consulente del lavoro, molto spesso non sanno dare a meno immediatamente le risposte. E proprio invitare in vitalia in questo evento è stato essenziale perché seguiranno proprio loro passo dopo passo il processo di richiesta dei finanziamenti. L'evento, promosso dalla consigliera Beta Costantini, è stato realizzato con il contributo ed il patrocino dell'assessorato al sociale del Comune di Silvi. Abbiamo ritenuto insieme ovviamente al Comune, ma in principal modo all'assessore sociale Fabrizio Valloscura, a cui aveva il mio più sentito ringraziamento, sempre attento alle tematiche sociali, abbiamo appunto deciso di fare questo convegno per informare e formare il territorio.